Ragazzi ve la ricordate la partita di Jake del Bayern? Ve l'ho raccontata con una partita a senso unico Ecco, prendete quella partita, moltiplicatela per 10 e capirete un po' la situazione che si è vista oggi in campo Nel secondo tempo tra Paderborn e Borussia Dortmund Un secondo tempo clamoroso per il dislivello comunque tecnico-tattico tra le due squadre Le due squadre ai antipodi proprio ragazzi, il Paderborn bisogna dirlo Nel primo tempo era riuscito anche a contenere abbastanza bene le avanzate offensive del Dortmund E Zingerle il portiere del Paderborn aveva fatto anche bellissime parate Nel secondo tempo dopo il primo gol subito si sono completamente squagliati come un cono girato al sole Non so ragazzi comunque hanno, si sono spaldati e il Dortmund ha approfittato facendo una goleata incredibile Penso con 3 gol negli ultimi 10-15 minuti al massimo Veramente una partita imbarazzante nel secondo tempo considerando che sono due squadre dello stesso campionato Sembrava quasi una amichevola estiva tra una squadra di eccellenza e una squadra di serie A Non so, Roma Pinzolo, una cosa del genere E invece era una partita di Bundesliga clamorosamente Comunque nel secondo tempo segna Hazard ma qui c'è purtroppo per lui l'errore di Zingerle Il portiere del Paderborn che come vi ho detto si era comportato benissimo il primo tempo sbaglia Emre Canne dall'auto di sinistra mette in mezzo Zingerle non riesce a bloccare il pallone ma anzi se lo fa sfuggire E Hazard ragazzi da un metro, un metro e mezzo appoggia con il piatto per lui È un gioco da ragazzi a porta vuota, la mette ed è 1-0 E qui comincia a sfaldarsi completamente il Paderborn Perché segna anche Sancho Sancho che comunque fa un bel gol sul suggerimento mi sembra di Brandt Però diciamo che qui la partita ancora poteva essere risollevata E infatti il Paderborn segna un gol che viene però annullato Ne segna un altro questa volta sul rigore che viene ovviamente convalidato Il rigore è anche tirato bene sotto al set Burki intuisce e la tocca anche ma non può far niente perché il rigore è tirato in modo impeccabile E poi ragazzi qui avviene la risposta del Dortmund Dopo un minuto risegna Sancho e chiudono baracche e buratini E se ne tornano a casa purtroppo E se ne sarebbero voluti tornare a casa Perché poi il Dortmund fa altri tre gol con Hakimi Che con un diagonale perfetto beffa Zingerle Poi segna anche Schmelzer all'inizio del recupero Comunque giù di lì e in pieno recupero Segna anche Sancho che sigilla questa partita Che termina con un parziale incredibile 6 a 1 per il Dortmund nella casa del Padermont In casa del Padermont Il video che c'è qui ringrazio per averlo visto Vi ricordo se volete che potete lasciarmi un mi piace e iscrivervi al canale Ovviamente lasciate anche un commento con la vostra opinione sia sul video che sulla partita Se l'avete vista Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti